Cominciamo questa sezione un pochino, non direi complessa, ma abbastanza interessante. L'argomento che l'amico Ferrigno mi ha segnato quest'anno è la riparazione della valvola ortica, che è un argomento poco conosciuto rispetto alla riparazione mitralica, che oramai la facciamo da 20 anni, 30 anni, ma anche la valvola ortica è soggetta a riparazione, purtroppo anche se è nata nel 90 con Carlos Duran, ancora è poco conosciuta. Due scenni storici perché è bello sempre imparare da quelli che sono venuti prima. I primi disegni e la prima descrizione della valvola ortica sicuramente fu fatta da un grande, da Leonardo da Vinci. Ma Leonardo da Vinci non è stato soltanto un grande scienziato, lui ha avuto molte doti. Uno di quelli di saper osservare, che è la cosa più importante nella vita. In effetti anche se uno va al castello di Windsor e vede le tavole dei suoi disegni nei studi anatomici, lui aveva già osservato nella sua vita breve tutti e tre tipi di valvola ortica, sia la tricuspide, sia la bicuspide, ma addirittura anche la quadricuspide, che è molto rara. L'ha disegnata in maniera perfetta, ma anche ha cercato di dare delle risposte, perché nella natura la forma più frequente è la valvola tricuspide. In effetti lui è stato capace di dare una risposta, probabilmente perché era anche un architetto e un ingegnere, e siccome la valvola, come tutti sappiamo, è sospesa con tre lembi o due lembi o quattro lembi dentro un cerchio, la natura, l'evoluzione, l'ha selezionata tricuspide perché è la forma più resistente e più forte. È tricuspide perché l'angolo ottuso nella geometria e nell'architettura è molto più forte di un angolo quadrato. Come vedete oggi è molto famoso il discorso dei ponti, i tiranti dei ponti sono sempre ottusi e mai a 90 gradi, perché sono più resistenti. E il raggio del lembo sospeso nella radice aortica, ovviamente se è più corto, è più resistente se fosse stato più lungo. Quindi la passerella del ponte, appesa dai tiranti, è più corta e quindi è più resistente. Per questo l'evoluzione della specie l'ha selezionata come tricuspide e non come quadricuspide. Ma ancora un altro fatto molto importante, perché l'ha selezionata come tricuspide e non come bicuspide, o perché la bicuspidia fallisce spesso rispetto alla tricuspidia, perché nella forma tricuspide, per potersi aprire bene in maniera circolare dentro un cerchio che è la orta ascendente, è d'obbligo che la lunghezza dei margini liberi siano più lunghi della base di impianto. E questo avviene per esempio nella tricuspidia, ma ciò non avviene nella bicuspidia, in quanto nella bicuspidia questo lembo, questa distanza è più corta della circonferenza e per questo la bicuspidia si apre a bocca di pesce. Oggi noi dobbiamo guardare alla valvola aortica come una struttura funzionale, non soltanto come tre lembi, come abbiamo imparato a guardarla sulla valvola mitrale. Quindi dobbiamo guardare tutta la radice aortica e non soltanto i lembi valvolari. E questa lezione l'abbiamo imparata dal grande Carpentier, che ci ha illustrato come funziona la complessità della mitrale e poi è stata trasformata sulla valvola aortica. Quindi se guardate bene con l'eco tridimensionale, noi riusciamo a capire la profondità e la complessità della radice aortica rispetto a una figura bidimensionale. Oggi quindi noi dobbiamo parlare di diverse strutture, dobbiamo parlare dell'anello aortico, dei seni di Valsalva, dei lembi valvolari, dell'aggiunzione sinutubulare, questa parte piccola che è molto importante, e poi dell'aorta ascendente. Tutta questa parte ha un ruolo fondamentale sull'apertura e sulla chiusura della valvola. Se uno capisce questa relazione geometrica tra questi componenti, può capire come molte valvole, quasi il 90% delle valvole non reumatiche, oramai la reumatica non esiste più, si possono riparare e si possono evitare di andare a sostituire, a usare delle protesi. Partiamo dell'anello aortico, che sicuramente la maggior parte dei cardiologi descrivono, negli echi lo misurano, e vediamo come quello che a volte facciamo non ha nessun senso nella pratica clinica assolutamente. Tutti abbiamo imparato e tutti facciamo una misura su questo tratto di flusso, e noi diamo per scontato che questa è la dimensione dell'anello, e poi traiamo delle conclusioni. Se noi vediamo una angiotic-gated oggi, noi capiamo profondamente come la struttura dell'anello è completamente diversa, perché non è fatta soltanto da questo piano bidimensionale, ma fatta da un piano bidimensionale, ma anche da una complessità, come se fosse una coronna a tre punte fino all'aggiunzione sinotubulare. Tutta questa parte, questa è una sezione anatomica, vediamo qui i lembi sono attaccati qui e sono sezionati, vediamo come c'è una parte che gli inglesi chiamano una dir, quindi in pratica è l'aggiunzione atrio-ventricolare, poi vediamo come l'anello sale su e è a livello commissurale, e vediamo che la punta della commissura arriva fino all'aggiunzione sinotubulare. Quindi oggi si parla di due componenti dell'anello, non soltanto quello che noi osserviamo sotto, ma di un anello sotto, un anello sopra addirittura parallelo e dalle commissure. Questa roba qua oggi viene definita come l'anello funzionale della valvola ortica. Ogni alterazione di ogni componente provoca una disfunzione valvolare. E questo si può osservare con l'eco tridimensionale in maniera abbastanza chiara. Vedete le commissure dove arrivano, i segni di Valsalva, la loro importanza, e l'aggiunzione sinotubulare è sempre più piccola rispetto all'orta ascendente, nell'età adulta ovviamente. Lo stesso è per la valvola bicuspide con pochissime varianti anatomiche. La valvola bicuspide spesso ha un anello eleicoidale e non circolare. Non è vero, non è per tutte le bicuspidie, come noi vediamo dopo, ci sono tre diverse forme di valvola bicuspide, secondo la classificazione di Sievers, ma più o meno è elicoidale. E vediamo come l'impianto della valvola è spesso più basso. Questa è una valvola bicuspide e la commissura è impiantata più basso. I triangoli cuspali sono più piccoli rispetto alla valvola tricuspide e per questo spesso i lembi sono prolassanti. Dobbiamo definire come lo definiamo per la mitrale. C'è il prolasso del lembo, c'è il bellowing del lembo e c'è anche il flail del lembo, della bicuspide. Queste sono tutte delle caratteristiche che bisogna notarle in maniera perfetta prima all'ecografia preoperatoria perché se bisogna andare verso una riparazione sicuramente tutti questi dati bisogna averli bene in mente prima di approcciare una valvola aortica. Un'altra componente nella bicuspidia che non bisogna mai dimenticare è la componente, la patologia dell'aorta ascendente che c'è oramai assodato su un'alterazione delle metallopirossidasi quindi c'è un'alterazione della componente dell'aorta e siccome, come abbiamo detto, l'aorta ascendente con l'aggiunzione sinutubulare fanno parte dell'anello valvolare ogni ectasia della bicuspidia aortica e ogni dilatazione partecipa in maniera importante all'insufficienza valvolare. Quindi quando bisogna trattare una valvola aortica bisogna assolutamente essere a volte aggressivi sulla aorta ascendente specificamente nella valvola bicuspide. Come abbiamo imparato dalla valvola mitrale ovviamente per riparare una valvola bisogna riparare i suoi lembi quindi ci sono diversi tecniche oggi a disposizione per riparare i lembi valvolari se sono prolassanti ci sono alcune tecniche che vediamo più in là e se sono piene di calcio con derraffe come nella valvola bicuspide ci sono altre tecniche adatte ma la cosa fondamentale è anche la componente dell'anello perché quello che abbiamo imparato dalla valvola mitrale per fare una buona riparazione bisogna riparare i lembi ma bisogna aggiungere sempre un'anuloplastica perché? Perché l'anuloplastica fa da contenimento rimodella la struttura anatomica intorno ai lembi e li conserva per lungo tempo per avere una minore incidenza di 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 ripresa dell'insufficienza mitralica e aumenta la superficie di coaptazione tra i lembi aumentando la superficie di coaptazione c'è riduzione di stress tra i lembi e quindi la durata è più lunga ricordiamoci sempre come disse Tyron David che la valvola aortica è una valvola molto romantica perché c'è un mutuale supporto tra i lembi non ci sono corde come nella mitrale è supportata uno contro l'altro che con una buona coaptazione quindi l'anuloplastica nella valvola aortica è più fondamentale che nella valvola mitrale questo mi piace citarlo perché è il primo brevetto che è stato effettuato vorrei dire anche a livello mondiale perché è la prima pubblicazione su un brevetto presente in letteratura di valvola aortica di un anello per la valvola aortica questa è l'idea che è nata quando eravamo giovani siccome abbiamo detto la complessità dell'anello aortico allora abbiamo pensato che per rimodellare tutta questa struttura serve un anello giù per rimodellare il nadir che è l'aggiunzione atrioventricolare e serve qualcosa che fa da contenimento all'aggiunzione sinutubulare e poi che riesce a contenere le commissure in quanto le commissure fanno parte dell'anello valvolare questo quello che siamo riusciti dopo che gli ingegneri l'hanno fatto in rendering quello che abbiamo noi prodotto sicuramente come avevate letto nella pubblicazione a mano perché partendo dall'università di Palermo e avendo 30 anni le aziende non è che lo producono quindi abbiamo costruito questo anello a mano e poi col tempo l'abbiamo provato sui pazienti la tecnica di impianto è una tecnica molto semplice d'altronde non era una innovazione genealoide era una piccola procedura che Duran l'ha fatta sui pazienti quasi giovani non dico pediatrici ma giovani adulti e che lui inseriva una specie di striscia sotto anulare sotto valvolare aortica quindi il primo lembo il primo impianto l'abbiamo effettuato quasi oramai dieci anni fa e questo è uno degli ultimi interventi che abbiamo eseguito vedete questo è un caso di una valvola ortica con un prolasso della cuspi di destra si vede benissimo anche all'eco tridimensionale con questa insufficienza severa eccentrica e questo è l'intervento chirurgico che consiste prima nella misurazione della geometria dei lembi perché ovviamente quando si deve inserire un anello bisogna evitare di provocare una stenosi ma bisogna evitare anche di selezionare un anello abbastanza largo che non crea una buona coaptazione tra i lembi questo oramai l'anello che è presente in commercio è un anello circolare non è altro che una striscia di plastica ricoperta da dacron e viene inserito sotto i lembi valvolari se riuscite a vederlo qua è sotto i lembi valvolari la tecnica è semplice come dall'interno all'esterno e quindi i lembi valvolari non vengono assolutamente intaccati questo è dopo la riparazione non c'è più insufficienza valvolare ma adesso questo è l'anello con l'attac gated e vedete come al di sotto del piano valvolare senza avere nessuna relazione con l'apertura e con la chiusura dei lembi come bisogna approcciare la valvola ortica come l'ha approcciata carpentier la valvola mitrale quindi la stessa classificazione è stata proposta da El Curie che lavora all'università luviana in Belgio e ha ribaltato la classificazione funzionale della mitrale sulla valvola ortica quindi anche sull'insufficienza valvolare ortica oggi si parla di tipo 1 normale movimento dei lembi tipo 2 eccessivo movimento dei lembi e tipo 3 movimento restrittivo dei lembi ovviamente in ogni categoria ci sono le patologie differenti il tipo 1 per esempio due esempi al volo normale movimento dei lembi perché ci deve essere insufficienza ovviamente perché c'è una dilatazione della radice aortica molto semplice con i lembi completamente normali ma guardate fino ancora oggi si vede che molte di queste valvole vengono sostituite questo è veramente oggi è un danno fare una roba del genere andiamo a vedere per esempio pochi esempi al volo tipo 1 basta avere un paziente con un aneurisma dell'aorta ascendente qualsiasi paziente oggi settantenni con un aneurisma terosclerotico anche non molto grosso un 45 un 46 avrà una dilatazione dell'aggiunzione di sinutubulare avrà displacement all'esterno delle tre commissure e la valvola si apre in mezzo e c'è un grado di insufficienza adesso in questo caso non c'è necessità di cambiare la valvola ortica basta cambiare l'aorta ascendente basta stringere l'aggiunzione sinutubulare e riportarla a un diametro minore della parte più bassa che la valvola diventa normale e competente andiamo avanti la tipo 1b dilatazione dei segni di Valsalva la patologia più importante il Marfan hanno una dilatazione della radice aortica o qualsiasi connettivutipatia guardate questo caso lo stesso discorso la dilatazione dei segni di Valsalva provoca dilatazione dei triangoli intercuspali dilatazione dell'aggiunzione sinutubulare e senza sufficienza aortica che all'inizio potrebbe essere lieve moderata ma portandola avanti col tempo col jet di rigurgito provoca fibrosi del margine libero del lembo che o si accartoccia o diventa prolassante o flail e hai una insufficienza severa eccentrica anche qui le tecniche sono quelle del rimodellamento o del riempianto della radice aortica quindi si cambia la radice aortica utilizzando la valvola stessa del malato anche se ha insufficienza severa nel preoperatorio ma basta isolare completamente i lembi valvolari impiantarli dentro il tubo che si ha una completa risoluzione del quadro di insufficienza valvolare questo per esempio è un intervento di rimpianto della radice aortica con un tubo vedete questo il tubo si vede da queste striature che è il dacron e questi sono i lembi valvolari che coattano in maniera perfetta all'interno molte patologie per esempio oggi di scompenso cardiaco o di dilatazione idiopatica di scompenso cardiaco provocano una dilatazione dei triangoli di Valsalva e provocano una insufficienza aortica anche molto importante e qui è molto fondamentale capire se l'insufficienza aortica severa se uno vede il paziente la prima volta ha provocato la disfunzione ventricolare oppure addirittura la disfunzione ventricolare idiopatica ha portato a una insufficienza valvolare e non è così semplice sempre vederlo la perforazione è molto semplice e l'intervento consiste soltanto nella chiusura con un patch di pericardio questo alcune forme sono abbastanza rare ma oggi con anche l'immigrazione con magari qualche paziente che viene da territori diversi questo è un caso che abbiamo riscontrato pensavamo che fosse un'endocardite all'eco in effetti non aveva endocardite ma aveva soltanto una severa ipertrofia dei noduli di aranzio che provocava guardate qua questo gettoni di chiusura che provocavano un'insufficienza molto importante e anche qua l'intervento invece di cambiare la valvola basta resezionare fare un po' di shaving a livello dei noduli di aranzio e si torna alla normalità nel tipo 2 col prolasso del lembo è una patologia o abbiamo un prolasso con l'insufficienza severa oppure per esempio nel caso di dissezione che abbiamo la dissezione che ha coinvolto la commissura e quindi ha provocato un prolasso di un lembo la tecnica oggi è molto facile e ci sono per esempio due tecniche o si questo è il lembo destro vedete come è accartocciato quindi prolassante le tecniche che vengono utilizzate sono banalissime una piccola applicazio a livello del margine libero e del del corpo del del lembo per ridurre la lunghezza dell'estensione del lembo e si risolve il prolasso quindi capite la differenza tra mettere un punto centrale e scendere giù e tra cambiare una valvola ortica e mettere una protesi al paziente questa è un'altra tecnica pure molto banale basta prendere una corda di Goratex passarla sul bordo libero del lembo a matressaio da una parte all'altra alla commissura e poi tirando i punti per stendere il lembo e alzarlo verso la radice aortica e si risolve anche il prolasso vedete come si tirano i fili da fuori finché non si riesce a accorciare il lembo sicuramente prendendo in considerazione la lunghezza dei lembi normali questo è il risultato dopo l'intervento si vede qua questo è un applicazio si vede la piccola applicazio al lembo e la valvola che coapta in maniera perfetta nella valvola bicuspide a volte il discorso è abbastanza più complesso per esempio come in questo caso c'è un raff molto importante c'è una severa calcificazione probabilmente in questo caso la soluzione bisogna mobilizzare il lembo quindi resecare tutto il calcio che c'è e in questo caso il gap che si ha quando si reseca il raff si può coprire con un patch in pericardio questo è un piccolo patch triangolare in pericardio e la riparazione della valvola bicuspide consiste nel lasciarla a bicuspide non si può tricuspidalizzare oppure qualcuno ha cercato di farla ma con dei pessimi risultati quindi anche qui la tecnica da un punto di vista tecnico non sono difficili l'importante è riuscire a capire che cosa bisogna fare in maniera perfetta prima dell'intervento ovviamente quanti minuti ho ancora non sappiamo come ho detto prima nella bicuspidia ci sono diversi tipi c'è il tipo 0 significa i due lembi normali senza raffe tipo 1 con un raffe e tipo 2 con due raffi questa è la classificazione la più utilizzata sui tre in giro si chiama la classificazione di Sievers per esempio questo qualche esempio vedete che questi due lembi sono quasi normali malleabili non c'è nessun raffe non c'è una fusione e questa è la vera bicuspidia quindi sono tutti bicuspidi e quando si parla di pseudobicuspidi a me mi viene un pochino il nervoso cioè non c'è pseudobicuspide c'è bicuspide con diverse classificazioni questa è la tipo 1 vedete come c'è un piccolo raffe appena accennato fibrotico con una commissura mentre nel tipo 0 ci sono solo due commissure quindi chi parla di pseudobicuspidi sta parlando di questo tipo di bicuspide perché vede tre commissure tre lembi e c'è una fusione questa bicuspide tipo 1 e la tipo 2 è quella abbastanza complessa dove ci sono un raffe molto importante in mezzo ai due lembi che sono congiunti e un altro raffe oppure chiusura commissurale qualcuno la definisce anche unicospide per vedere al volo un attimo i risultati questo è uno dei primi lavori che viene dalla Mayo Clinic su 160 pazienti addirittura negli anni fine anni 90 già loro dimostravano che se tu riesci a riparare una valvola ortica buona con buoni lembi riesci come nella mitrale a fare un intervento che ha un risultato riguardo la sopravvivenza e la qualità di vita come se fosse un paziente normale cioè matchato per genere per sesso uguale quindi come nella storia della mitrale la stessa è la storia della valvola ortica questi avevano osservato un 16% nella prima fase iniziale della loro esperienza di ripresa di insufficienza ortica nel 16% questa ripresa ortica era dovuta a problemi di riprolasso allora per questo motivo pure qua qualche anno fa abbiamo ideato questa tecnica per evitare il riprolasso fare una corda come lo è per la mitrale invece di lasciarla soltanto da una commissura a una commissura mettere una in mezzo che va all'aggiunzione sinutubulare per evitare il prolasso a distanza adesso se andiamo a guardare questo gruppo tedesco uno dei gruppi pionieri a livello mondiale vediamo che hanno messo un'evidenza se si riesce a riparare i lembi valvolari e si hanno osservato i loro malati e si aggiunge una riparazione a livello dei seni di Valsalvo della orta discendente i risultati sono migliori quindi più componenti cambi a livello della riduce aortica più risultati a distanza in termini di ripresa e di interventi migliora lo stesso risultato l'ho anche pubblicato il gruppo di El Curie che è un altro gruppo europeo molto importante nella chirurgia della valvola aortica e anche qui il gruppo di El Curie ha dimostrato che i risultati quando si riesce a riparare le valvole tipo 1 e tipo 2 hanno dei risultati ottimi il tipo 3 intendo di valvole con severe calcificazioni con movimenti restrittivi probabilmente oggi meglio cambiarli lo stesso lavoro dimostra anche conferma l'esperienza tedesca quindi più componenti a livello della radice aortica si cambiano più il risultato stabile per il futuro i stessi risultati abbiamo anche noi dimostrato nella nostra esperienza sia per la valvola bicuspide sia per la valvola tricuspide per esempio se uno vede la sopravvivenza e la libertà da insufficienza aortica dopo l'intervento ovviamente se guarda qui la tricuspide è meglio della bicuspide ma se uno va a vedere nei subgruppi della bicuspide e li divide tra tipo 0 tipo 1 tipo 2 ovviamente la tricuspide è il tipo 0 tipo 1 intendo valvole con dei lembi buoni il risultato è uguale è ottimo se si comincia a riparare di qualsiasi cosa anche valvole con estensione di calcificazione molto importanti i risultati non sono ottimi e quando si usa addirittura purtroppo che adesso si comincia a osservare il patch di pericardio ovviamente i risultati non sono ottimali e concludo qua volevo lasciare questo messaggio che oggi la valvola ortica si può riparare come nella valvola mitrale probabilmente abbiamo alcuni centri hanno un'esperienza minore perché non è una patologia diffusa in tutti i centri questo tipo di tecnica ma addirittura più facile della valvola mitrale è sicura se fatta per i pazienti selezionati che sono oggi per la patologia che vediamo quasi il 90% da degli eccellenti risultati a distanza ovviamente bisogna evitare come detto prima le severe calcificazioni la bicuspidia tipo 2 cercare di evitare al minimo l'utilizzo di patching pericardio se non è necessario per i pazienti abbastanza giovani e che sicuramente oggi vale la pena sviluppare queste tecniche perché ripeto molto importante anche oggi nella visione delle nuove tecnologie delle TAVI sicuramente specialmente nei pazienti oggi giovani riuscire a riparare una valvola magari avere anche 10-15 anni di libertà da eventi in previsione di future interventi per cutanei potrebbe essere un'ottima scelta grazie mille